ciao lettori elettrici di mamma style e benvenuti in un nuovo video oggi prepareremo insieme la pasta alla finta genovese fatta in padella questa ricetta è davvero incredibile è una variante gustosa e velocissima da preparare della classica genovese e sarà pronta in soli 10 minuti vediamo insieme quali sono gli ingredienti e i vari procedimenti iniziamo a tagliare a fettine molto sottili le cipolle poi in una padella versa un po' d'olio extravergine d'oliva aggiungi la cipolla e soffriggila poi versa un mestolo d'acqua per farla stufare copri con un coperchio e cuoci per 10 minuti ogni tanto controlla che non si bruci e mescola adesso aggiungi la carne in scatola del basilico e del pepe mescola per amalgamare gli ingredienti scola la pasta direttamente in padella con il condimento manteca per qualche minuto a fiamma viva aggiungendo un mestolo d'acqua di cottura e poi il parmigiano grattugiato un mestolo d'acqua per amalgamare gli ingredienti un mestolo d'acqua per amalgamare gli ingredienti ありがとうございます ti